Musica Buona domenica, benvenuti al riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 12 ottobre. Rischio idrogeologico in Sicilia, l'assessore regionale al territorio Maurizio Croce replica all'attacco del Movimento 5 Stelle e annuncia la dichiarazione dello stato di calamità per l'ondata di maltempo. L'assessore regionale al territorio Maurizio Croce fa chiarezza sul suo ruolo di commissario per il rischio idrogeologico sia in Sicilia che in Puglia e Calabria, annunciando anche la dichiarazione di stato di calamità per l'ondata di maltempo che ha investito la Sicilia. La replica arriva dopo il duro attacco del Movimento 5 Stelle che aveva persino ipotizzato una mozione di censura. Stiamo già predisponendo la documentazione per la dichiarazione dello stato di calamità naturale nell'intera provincia di Messina e la contestuale richiesta di dichiarazione di stato d'emergenza da presentare al Consiglio dei Ministri. Ha detto l'assessore che insieme al responsabile della protezione civile di Messina, ai sindaci di Milazio e di Barcellona, ha effettuato un sopralluogo nelle zone colpite dall'ondata di maltempo. Croce ha inoltre raccolto l'appello del capogruppo del PDR all'Ars, Giuseppe Piccolo, che ha chiesto di accertare la irresponsabilità di coloro che non hanno avuto la capacità di attuare l'ordinanza di protezione civile e messa nel 2011 per mettere in sicurezza un territorio che già aveva dimostrata tutta la sua fragilità. In questo senso, nelle prossime ore si provvederà ad acquisire tutta la documentazione necessaria al fine di accertare la causa dei ritardi dell'attuazione della precedente ordinanza ed eventuali irresponsabilità. Croce ha inoltre spiegato che quello del commissario non era assolutamente un ruolo di controllo e di vigilanza del territorio, né tantomeno di pianificazione e programmazione di interventi. Il commissario riveste invece il ruolo di attuazione di programmi di interventi stabiliti da appositi accordi di programma Stato-Regioni. Frana sulla A18 Messina Catania ha iniziato il monitoraggio per individuare le ipotesi di interventi urgenti e quantificare le somme necessarie per il ripristino. Sono iniziate oggi le operazioni di rilievo e monitoraggio della Frana che ha investito la scorsa settimana una delle carreggiate della A18 Messina Catania. Attraverso le immagini realizzate da un drone e un laser scanner, il Dipartimento regionale tecnico fornirà all'Ufficio del Genio Civile di Messina, interessato per competenza territoriale, le informazioni necessarie ad individuare con immediatezza le ipotesi di interventi urgenti e da quantificare le somme necessarie per il ripristino della normale viabilità in tempi brevi e in condizioni di sicurezza. Nei giorni scorsi l'assessore alle infrastrutture Giovanni Pizzo aveva affermato «Riteniamo che sia prioritario il rispetto dell'incolumità dei cittadini e l'integrità dei territori. Il patrimonio infrastrutturale messo a dura prova in questi anni va salvaguardato con ogni sforzo possibile da parte di questo governo». La Frana ha invaso l'autostrada all'altezza di Letoianni, in località Sillemi. Il TAT in questione è ancora chiuso e la A18 in quella zona si percorre con il doppio senso di marcia. Si è conclusa con una preghiera per la pace dei popoli nel pieno cuore della casma di Mazzara del Vallo la quarta edizione di Blue Sea Land. Bellissimo questa conclusione con una preghiera, questa invocazione comune fra tutte le religioni, i rappresentanti di tutte le religioni monoteiste. È stato un momento veramente emozionante. È emozionante ritrovarsi qui nella casba di Mazzara del Vallo che ancora una volta si conferma luogo di incontro e di dialogo. Ecco, questa è la migliore espressione di questa nostra comunità, di questa nostra civiltà. Dobbiamo esportare questo, dobbiamo esportare questo modello. L'imam, il mio fratello, l'imam della grande moschea di Roma, ha testimoniato come bisogna combattere ogni forma di soppruso, ogni forma di violenza, ogni forma di terrorismo. E per farlo c'è bisogno di tanto dialogo, c'è bisogno di cooperazione. Blue Sea Land è una base, è un hub per la collaborazione fra i popoli del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente. Martedì 13 ottobre, investimenti in calo esponenziale, occupazione in caduta libera e crollo delle gare di opere pubbliche, infrastrutture inesistenti o pericolanti. Questi alcuni dei temi al centro degli stati generali dell'edilizia nel Mezzogiorno, organizzati dalla Filca Cisle. Bisogna ripartire da noi, dalle cose piccole, bisogna rilanciare una grande commessa pubblica nel settore delle costruzioni nel sud, perché credo che sia importante recuperare la rete infrastrutturale del sud, che sicuramente non è competitiva con il resto del paese. Ma basterebbe guardare il desistere geologico per vedere che sicuramente c'è un grande lavoro da fare. Poi c'è tutto il tema dell'infrastrutturazione delle scuole e quant'altro. Noi vogliamo porre l'attenzione su questa problematica che riguarda la possibilità che l'economia del paese riparta dal sud, e non solamente con un fatto accademico come avviene durante l'estate, dopo il rapporto e lo svimez, che il tempo del Mezzogiorno torna a essere centrale. Noi siamo scoraggiati perché vediamo già quasi tre anni di governo regionale che siamo totalmente inascoltati. Si figuri che, mi sembra, l'anno scorso, tramite il collegio nostro regionale, abbiamo chiesto un semplice appuntamento all'assessore dell'economia, ma neanche nessuna risposta. I vari assessori, mai nessun incontro, figurarsi con il Presidente della Regione. Con l'assessore Pizzo abbiamo qualche incontro, abbiamo fatto un'ottima cosa insieme a tutte le altre categorie produttive, ai sindacati, questo sulla legge nuova degli appalti, che viene presa addirittura come esempio nella nuova stipula del nuovo regolamento nazionale. Purtroppo noi in Sicilia non abbiamo né politica, né classe dirigenziale politica. L'Assemblea regionale non fa niente. Quando l'Assemblea regionale e tutti i deputati si renderanno conto che questa legislatura non produrrà nessun effetto, sarà tardi, perché non oramai si parla di infrastrutture, ma il problema non è che sono adeguamente le infrastrutture. Bisogna costruirle prima le infrastrutture e poi adeguarle. La situazione è tragica, grave. Sicilia Nazione ha svelato la verità sui conti della Regione e su quello che ha fatto e continua a fare il governo Crocetta. Ascoltiamo l'ex assessore al bilancio, Gaetano Armao. La Sicilia aveva bisogno di una seria politica di risanamento, che non è stata fatta. Le vicende sugli emolumenti dei dirigenti lo dimostrano. Non è stata fatta soltanto immagine e in alcuni casi anche deteriore. I risultati sono disastrosi. Oggi Eurostat ci dice che siamo l'ultima regione in Italia per occupazione. Sicilia Nazione non si è intervenuta sulle riforme. Quelle poche che sono state fatte sono state bocciate dal governo e impugnate in Corte Costituzionale. Le previsioni sul bilancio sono completamente sbagliate. Mancano due miliardi. Insomma, non sanno far di conto. Non sanno disegnare leggi che possano risolvere i problemi nella Sicilia. Non vedo che ci siano ancora a fare lì. Sicilia Nazione cosa propone? Sicilia Nazione propone un progetto di rilancio della Sicilia che parta dalla piena applicazione delle nostre previsioni statutarie e non dalla abiura che ha fatto Crocetta insieme a questo commercialista mandato da Renzi a risolvere i problemi dello Stato, non della Sicilia. Il dramma è sotto gli occhi di tutti, quindi bisogna ripartire dalla Sicilia, ripartire dalle regole che ci danno la possibilità di attrarre risorse, attraendo investimenti, puntando sulla fiscalità di vantaggio, perché senza nuove risorse imprenditoriali la Sicilia non riparte. Pensare di nacquare tutto con le clientele e il precariato non serve a niente. Bisogna puntare al lavoro vero, all'economia vera e questa la può creare soltanto l'impresa turistica, l'impresa industriale innovativa che viene attratta qui dalla fiscalità di vantaggio. Mafia, commissariato in Leor Comune di Mazzarra, Sant'Andrea, la decisione del Ministero dell'Interno. Si ipotizzano ingerenze mafiose nella gestione della discarica. Il Consiglio dei Ministri ieri sera ha deliberato, su proposta del titolare dell'Interno, Angelino Alfano, il commissariamento straordinario per il Comune di Mazzarra, Sant'Andrea, per le ingerenze mafiose nella gestione della discarica. Il Governo ha deciso di affidare la gestione del Comune a una commissione straordinaria, che sarà nominata con decreto del Capo dello Stato e che resterà in carica per i prossimi 18 mesi, prorogabili fino a 24. Il commissariamento arriva a pochi mesi dagli arresti del Sindaco di Mazzarra, Sant'Andrea, in provincia di Messina, Salvatore Bucolo e di tre amministratori delegati protempore della Tirreno Ambiente, che gestisce nel Comune del Messinese una delle più importanti discariche della Sicilia, Giuseppino Innocenti, Giuseppe Antignoli e Lorenzo Piccioni. L'operazione era stata denominata a riciclo ed ha coinvolto, oltre al Sindaco di Mazzarra, Sant'Andrea, un ex senatore, Lorenzo Piccioni, di Forza Italia. È stato anche membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite adesso connesse dal 5 ottobre del 2010 al 14 marzo del 2013. L'operazione è stata soltanto l'ultima in ordine di tempo tra quelle che hanno portato a numerosi arresti sempre legati alla megadiscarica di Mazzarra. Mercoledì 14 ottobre, Sanità Siciliana, Roma boccia la nuova rete ospedaliere e chiede profonde modifiche al decreto Borsellino, a rischio le assunzioni annunciate dalla Regione. La Sanità Siciliana potrebbe trovarsi nel bel mezzo di un terremoto senza precedenti. Il Ministero della Salute ha posto più di un rilievo sul decreto con cui la Regione ha ridisegnato la mappa dei posti letto negli ospedali. La bocciatura sul piano Sanità travolgerebbe anche il piano che l'assessore Baldo Gucciardi sta portando avanti per bandire concorsi da 5.000 posti. Proprio ieri Gucciardi insieme all'assessore all'economia Bacciai è volato a Roma dove con la mediazione del sottosegretario Faraone ha incontrato il ministro Beatrice Lorenzin per provare a stilare un accordo che possa salvare il piano che era stato messo a punto a gennaio scorso dall'assessorato allora guidato da Lucia Borsellino. Adesso Roma costringe a rivedere anche la parte che riguarda gli ospedali pubblici. Già lo scorso 20 settembre sul tavolo dei dirigenti di Piazza Ottavio Zino era arrivata una nota firmata dal direttore generale della programmazione sanitaria Renato Botti. Nella lettera si sottolineava come il decreto Borsellino prevedesse alcuni elementi di novità che tuttavia non apparivano risolutivi delle criticità evidenziate. Le osservazioni pervenute da Roma sono molto tecniche. In primis si boccia la mancata chiusura dei piccoli ospedali, poi la rete del 118, la permanenza dei pronto soccorso nei PTA e infine anche una stoccata sui mancati tagli alla sanità privata. Il neossessore Baldo Gucciardi comunque rassicura. Stiamo rispondendo su tutti i punti. Sequestrate due case di cura nel centro di Palermo dove sarebbero stati commessi maltrattamenti e abusi su anziani. Abusi e malversazioni nei confronti di degenti e dipendenti sarebbero stati commessi in due case di cura per anziani a Palermo sequestrate dalla Polizia di Stato. Due donne, madre e figlia rispettivamente alla qualità di gestore e titolare delle due strutture dovranno rispondere dei reati di estorsione aggravata ed in concorso, maltrattamenti ed abbandono di persone incapace per malattie e per vecchiaia. Le indagini sulle case di cura sono state condotte alla sezione investigativa del commissariato Libertà. È stata una dipendente a fare scattare le indagini, ha presentato una denuncia dopo aver subito numerose vessazioni, mancate ferie, riposi e contributi previdenziali. La dipendente non accettava i sistemi utilizzati alla madre e dalla figlia per accudire gli anziani. I poliziotti hanno così installato le telecamere all'interno delle strutture e ripreso tutto quello che subivano i pazienti che si trovavano all'interno. Denutrizioni e malnutrizioni, somministrazioni mediche inappropriate e senza indicazione terapeutica, punizioni nei confronti dei degenti sospettati di avere denunciato le vessazioni alla Polizia, mancato ricorso a cure mediche ospedaliere. Sarebbero solo alcuni dei comportamenti che avrebbero segnato profondamente la vita degli anziani ospiti delle strutture. Altri dipendenti alle case di cura nel centro di Palermo si sarebbero presentati alla Polizia per denunciare quello che accadeva. Se gli anziani non si piegavano alle percosse privazioni che subivano nelle case di riposo, venivano spostati di volta in volta tra le due strutture, in modo tale da non incontrare gli agenti di Polizia Giudiziaria che venivano a fare ispezioni nella struttura. Mafia arrestato a Castelvetrano l'imprenditore Giovanni Filardo, cugino del boss Matteo Messina Denaro, con le sue società faceva da Bancomatta la latitante. A meno di 24 ore dalla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo, gli agenti delle squadre mobili di Trapani e Palermo e dello SCO, il servizio centrale operativo, hanno arrestato il Castelvetranese Giovanni Filardo. I giudici, capovolgendo l'assoluzione pronunciata in primo grado, lo hanno condannato a 12 anni e 6 mesi per la partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra. Nei suoi confronti è stato emesso un ordine di cattura che è stato immediatamente eseguito. Filardo è stato arrestato nella sua abitazione di Castelvetrano. Era uno degli imprenditori di punta della provincia di Trapani, ma il suo ruolo non si fermava qui. Le intercettazioni della polizia hanno rilevato, infatti, che era il bancomat di suo cugino Matteo Messina Denaro. Le indagini hanno scoperto che i proventi delle società di Filardo che si aggiudicavano una lunga serie di appalti, compresi i lavori di sbancamento dell'area dove è sorto il nuovo commissariato di Castelvetrano, servissero per alimentare la latitanza del boss numero 1 di Cosa Nostra. Giovedì 15 ottobre, violento temporale, con forti raffiche di vento su Palermo, tanti disagi in città, 50 gli interventi dei vigili del fuoco. Un violento temporale si è abbattuto alle 4 di questa mattina su Palermo e province. I primi interventi sono scattati a Partinico, poi la perturbazione è arrivata fino al capoluogo. 50 gli interventi da parte dei vigili del fuoco. Come di consuete, in via la regione siciliana alcuni sottopassi si sono allagati con auto impantanate. Stop al traffico nel sottopasso Einstein, in quelle in via Messina Montagna, dove è stato necessario l'intervento dei pompieri per soccorrere degli automobilisti in difficoltà. Il forte vento ha abbattuto alberi e cartelloni pubblicitari. In particolare, in piazza Mendola, una palma secolare è crollata finendo su un'auto posteggiata. La piazza è stata chiusa al traffico. Grossi rami sono finiti sulle auto in sosta anche in via Paternosto e al Foritalico. Chiusa al traffico anche via De Cipressi per il crollo di un muro. Una frana ha bloccato la strada statale 186 a Pioppo nel comune di Monreale. Il transito dei veicoli è stato interrotto. La massa di detriti che si è staccata alla montagna ha investito un autocompattatore che è stato danneggiato. Il comune di Palermo ha informato che già dopo qualche ora sono stati rimossi gli alberi caduti in piazza Mendola in piazza Indipendenza dagli operai del settore verde. Sono stati aperti tutti gli svincoli e i sottopassi compreso quello di piazza Einstein della circonvallazione. La RAP, che già ieri era intervenuta per la pulizia dell'asse in regione siciliana, continua l'intervento di rimozione degli aghi di pino caduti per il forte vento di questa notte con l'ausilio delle spazzatrici. In costituzionali alcune parti della legge regionale sull'acqua pubblica sono state impugnate dal Consiglio dei Ministri. Un'altra legge impugnata a Roma, questa volta si tratta di quella sull'acqua pubblica. Il Governo nazionale ha infatti ribadito le osservazioni mostre dal Ministero dell'Ambiente Autoriti dell'Energia che erano state contestate da Palazzo Ghigia al Governo regionale la scorsa settimana. Alcune parti della riforma sono ritenute incostituzionali. Tra queste la differenza di trattamento tra soggetti pubblici e privati per gli affidamenti, per i privati è prevista una durata di nove anni delle concessioni, la parte relativa alla definizione delle tariffe e la gestione diretta da parte dei Comuni. I profili di censura che vengono sollevati non sono purtroppo una novità detto l'assessore Vania Contrafatto che durante l'iter della legge all'Arsa aveva messo in guardia sui rischi di incostituzionalità da parte della norma. Se l'Arsa modificherà le parti impugnate così come avvenuto per la riforma dei liberi consorsi smontata da Palazzo Ghigia il Governo potrebbe successivamente rinunciare al ricorso davanti alla consulta. Grande successo a Casteldaccia per il progetto Penne e Matite Cittadini per la Scuola promosso dall'Associazione Impronta Unica con la collaborazione di alcune cartolerie della città di Bagheria e Casteldaccia. Questa iniziativa è stata molto importante, noi l'abbiamo subito sposata anche perché conoscendo i giovani e i ragazzi di Impronta Unica con i quali abbiamo instaurato subito un feeling, un bel rapporto non potevamo che promuoverla. Effettivamente è stato un successo perché le due cartolerie di Casteldaccia che hanno aderito all'iniziativa ci hanno confermato che molta gente ha partecipato. Questo che significa? Che grazie a questa iniziativa qualche famiglia più indigente potrà usufruire della donazione di materiali di cancelleria che altrimenti non avrebbero e quindi potranno sicuramente alcuni ragazzini fare tutto l'anno con tutte le attrezzature necessarie per seguire le lezioni. Abbiamo raccolto quasi 3.000 pezzi quindi un dato che ci ha lasciato davvero molto contenti è che sicuramente riuscirà ad avere un impatto più efficace e non a caso riusciamo a coprire bene le due scuole presenti nel comune di Casteldaccia la scuola della frazione di Asp che fa capo al Girgenti mentre per quanto riguarda le scuole di Bagheria abbiamo voluto effettuare un sorteggio ritenendo questo metodo, lo strumento che più ci permettesse una maggiore trasparenza ma anche equità nei confronti di tutte le scuole della comunità bagherese. Quindi un risultato assolutamente importante che ci fa ben sperare e ci fa capire che quando i cittadini uniscono le forze verso un obiettivo comune si possono raggiungere grandi risultati. Noi non cerchiamo di risolvere i problemi delle persone perché comprendiamo che con un quaderno, una penna, una gomma non si risolve il problema però cerchiamo di dare quell'aiuto concreto che la cittadinanza e il territorio ha bisogno. Venerdì 16 ottobre un'intesa più stretta tra sindacati, agenzia dei beni confiscati tribunale, misure di prevenzione e amministratori giudiziari per gestire meglio i beni sequestrati alla mafia la richiesta è emersa nel corso dell'ultima riunione del coordinamento sulle aziende confiscate. Nuove strategie con cui gestire i patrimoni sequestrati alla mafia dopo la bufera giudiziaria che ha coinvolto la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ed il giudice Silvana Saguto se ne è parlato nel corso di una riunione del coordinamento sulle aziende confiscate che si è svolta alla CGL di Palermo l'idea è quella di dare vita a rapporti più organici e stretti tra sindacati, agenzia dei beni confiscati, tribunale, misure di prevenzione e amministratori giudiziari per intervenire già dal primo giorno del sequestro di un'azienda ed elaborare un piano industriale che salvaguardi l'attività produttiva e l'occupazione la CGL ha chiesto inoltre l'applicazione di modelli gestionali che superino i limiti e gli errori di un passato condizionato da una visione troppo burocratica e poco imprenditoriale rivendicando un'esperienza ormai decennale nei sequestri seguiti il sindacato ha dunque proposto la sua collaborazione come punto di riferimento nell'elaborazione tecnica per evitare che con la confisca definitiva come accade nel 90% dei casi, le aziende chiudano l'obiettivo è far sì che le quasi 400 aziende sequestrate a Palermo restino in attività dopo aver superato i costi della legalità la messa in regola dei dipendenti l'evasione contributiva, i permessi sanitari il passaggio alla confisca per le aziende che ci arrivano è il più delicato adesso CGL, CISL, Will ed altri soggetti stanno lavorando ad un protocollo da sottoporre al Tribunale di Palermo e programmando iniziative comuni con le associazioni come è accaduto per il sitino di sostegno a Gelatoina, Bagheria l'idea del sindacato è di coinvolgere nel coordinamento anche le RSU delle aziende Niente soldi per la Sicilia nella prima stesura della legge di stabilità nazionale conti regionali sempre più nel baratro Nella prima versione ufficiale della legge di stabilità nazionale non esiste alcun finanziamento destinato alla Sicilia nonostante la regione trattasse da mesi per strappare almeno 1 miliardo e 400 milioni somme che ora il governo regionale sarà costretto a recuperare attraverso nuovi tagli il presidente Crocetta deve fare i conti con un buco stimato nel bilancio 2016 di 2 miliardi l'assessore all'economia Alessandro Baccei aveva prospettato la possibilità di coprire autonomamente una parte del buco pari a 600 milioni il resto si sperava potesse arrivare da trasferimenti statali frutto di una nuova regolamentazione dei rapporti fiscali tra Roma e Palermo quello che trapela dalla capitale è un giudizio negativo sulla credibilità del governo regionale che peraltro si evince dalla pioggia di impugnative e commissariamenti di questi giorni i renziani sono sempre convinti che serva un passaggio politico cioè la fine della legislatura e le elezioni in maggio o giugno dell'anno prossimo insieme alle amministrative di grandi città italiane ma i deputati all'Arsa e le segreterie dei partiti resistono contro questa idea mentre a livello nazionale è ancora in discussione l'abolizione della TASI il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato la TASI sui servizi indivisibili relativi al 2015 riducendo le spese ma confermando la liquida dell'anno precedente mentre a livello nazionale è in discussione l'abolizione della TASI il Consiglio Comunale di Palermo con il voto contrario delle opposizioni ha approvato la TASI sui servizi indivisibili relativi all'anno 2015 riducendo le spese ma confermando la liquida del 21,30% dell'anno precedente in particolare sono considerati i servizi indivisibili l'illuminazione stradale pubblica, la pubblica sicurezza e la vigilanza i servizi cimiteriali, la manutenzione delle strade e del verde i servizi socioassistenziali, protezione civile, tutela degli edifici e tutela del patrimonio artistico per complessivi 101,5 milioni di euro che vengono coperti in parte con queste tasse e in parte con altre entrate hanno votato contro Forza Italia e PD una decisione che sta facendo storcere il naso a molti per prima Nadia Spallitta, vicepresidente vicaria del Comune di Palermo non è ben chiaro, spiega la Spallitta, se il contenimento sia determinato da una virtuosa riduzione della spesa o degli stessi servizi anche perché è totalmente sprovvisto di ogni allegato che consenta di riscontrare le voci di spesa delle varie tipologie di servizi indivisibili e i loro dettagli ma altre sì di verificare nel complesso le modalità di copertura di questi costi inoltre, sempre secondo la Spallitta, la proposta appare anomala perché arriva a fine anno e dovrebbe riguardare l'esercizio 2015 collegato ad un bilancio di previsione che non è stato ancora proposto all'Aula e tra l'altro la stessa implica che i cittadini continueranno a versare gli stessi importi essendo rimasta invariata l'aliquota cosicché se nel 2014 la copertura dei costi era pari a circa il 19% nel 2015 aumenterà la copertura dei costi fino al 21% la proposta suscita dunque molte perplessità Ed è tutto, grazie per essere stati con noi vi auguro ancora una buona domenica Grazie a tutti